Ragusa è una città che invecchia e dove si nasce sempre meno. I suoi residenti sembrerebbero benestanti, ma con una ricchezza mal distribuita, considerato anche l'altissimo indice di disoccupazione, che tocca un livello storico del 19,6%. Sono solo alcuni dei dati resi noti ieri sera dall'osservatorio della Caritas. Viviamo in un territorio che di lapida ricchezza, ha affermato Vincenzo Lamonica, responsabile dell'osservatore di Ocesano sulle povertà. Basti pensare che alla dipendenza da gioco, dove le giocate annue pro capite, ammontano a 874 euro, una cifra assai consistente in relazione al numero di popolazione. Altri dati riguardano l'età media dei ragusani, che si ferma a 44 anni, con un indice di vecchiaia pare al 167%. I coniugati risultano essere il 52% della popolazione, i divorciati l'1%, mentre le vedove ammontano al 12,5% della popolazione femminile ragusana. Il reddito medio, dato riferito al 2015, ammonta 11.417 euro pro capite. Il 3% dei più ricchi dichiara il 15% della ricchezza totale, mentre il 55% dichiara un reddito inferiore a 1.000 euro al mese. Un'analisi dunque attenta e dettagliata a quella proposta dalla Monica, che ha evidenziato come, purtroppo, il fenomeno delle povertà sia presente e in maniera importante anche nella città di Ragusa.